Ragazzi c'è da aver paura, la robotica dà nuova vita a un animale vissuto 45 milioni d'anni fa Cioè, guardate che ciofeca che hanno fatto Mamma mia, e quando rifaranno i dinosauri? No, a parte gli scherzi, questi qua, guardate che cosa hanno fatto, guardate cosa hanno fatto Questo sarebbe l'animale che hanno ricostruito Sembra un pezzo di immondizia E poi, la sostenibilità, non è che sporca questo pezzo di plastica La plastica non doveva più essere usata, no? Oggi sono particolarmente incavolato